Abbiamo chiesto a Salvio Sottile in occasione dei 70 anni della Rai TV di ricordare un marchio storico della Rai. Tu hai scelto un marchio che tutti conoscono, anche per le vicende personali che il conduttore di questo marchio ha dovuto subire. E si tratta di? Si tratta di Portobello, di Enzo Tortora, perché credo che Enzo Tortora fosse il compendio dei conduttori televisivi migliori che questa azienda abbia sfornato per eleganza, per cultura, per modo di porsi al pubblico. E quindi, siccome quando ero bambino guardavo Enzo Tortora, ho seguito poi tutta la sua vicenda, anche se da lontano, e l'ho rivisto in onda dopo quel calvario che subì. E la prima cosa che lui fece fu rivolgersi al pubblico con l'amore di sempre. Lo vediamo, questo ritorno in onda di Enzo Tortora dopo il calvario giudiziario. E poi c'è un altro filmato scelto da Salvo su Portobello, molto tenero, che riguarda il pappagallo. Ma partiamo dal ritorno in TV di Tortora, ovviamente sulla Rai. Grazie. 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 Grazie a tutti. Eravamo rimasti. Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me. E io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo come facevamo esattamente una volta. Applausi. Questo filmato commuove ma fa anche tanto arrabbiare. Dopo tanti anni fa arrabbiare perché poi lo stato di salute della giustizia italiana, diciamo, nella maggior parte dei casi, insomma funziona. Non è cambiato molto. Ma non è cambiato molto. Voglio ricordare ai più giovani che Enzo Tortora viene arrestato il 17 giugno del 1983, condannato a dieci anni di carcere per traffico di stupefacenti e associazioni a delinquere. Nel 1986 in appello l'assoluzione confermata l'anno dopo in Cassazione. La vicenda che portò in carcere un innocente è stata descritta come il più eclatante orrore della giustizia italiana. Permettetemi di aggiungere che in quella vicenda fu coinvolto anche il mio caro amico Franco Califano, prosciolto da tutte le accuse. La cosa grave è che Enzo Tortora fu portato con gli schiavettoni, te lo ricorderai, per essere esibito come una sorta di trofeo da quei magistrati che lo arrestarono e lo fessero vedere con gli schiavettoni proprio perché lui era il presentatore più popolare in quel momento. E questa è una cosa gravissima. Tu hai visto la commozione di Enzo Tortora quando è arrivato, però lui era come se il dramma che avesse portato lo volesse restituire al pubblico per dire io sono una persona per bene e sono tornato qui per guardarvi negli occhi e dirvi non abbiate paura.